Mediterraneamente Guarda quanta gente Come pesciolini dentro la... Con la canzone Mediterraneamente il piccolo Alessandro Gibilisco si è giudicato il terzo posto alla sessantesima edizione dello Zecchino d'Oro Alessandro è di Ragusa e ha cantato la canzone scritta da Giuliano Paco Ciabatta che parla di migranti e integrazione Ha vinto lo Zecchino al primo posto la canzone Una parola magica Alessandro è molto bravo come ha dimostrato in tv Aluno della quinta classe della scuola elementare Maria Leventre Alessandro gioca basket ed è anche un bravo batterista Lo Zecchino d'Oro quest'anno ha vissuto un'edizione speciale e celebrativa Venerdì sera è uno speciale quindi condotto da Carlo Conti con le canzoni più belle di questi 60 anni di storia dello Zecchino Una puntata che ha fatto tornare tutti i bambini Sabato la finalissima con Alessandro che è riuscito a piazzarsi al terzo posto Il 2017 si chiude all'insegna della gentilezza e di temi importanti come la dislessia e l'integrazione sta al passo con i tempi raccontandoci di un mondo che cambia con la tecnologia Tutto parla di equilibrio e si guarda al futuro senza mai dimenticare le nostre radici C'è anche una simpatica curiosità Nel 2012 anche la sorella di Alessandro, Carla Gibilisco era riuscita a partecipare allo Zecchino d'Oro con la canzone la tarantella della mozzarella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti